Gentili telespettatori, buona giornata. Ormai Striscia la notizia sforna delle notizie giornaliere sulla famiglia dei Soumaoro. Questa volta ne racconta altre nel suo telegiornale satirico. Quindi Striscia la notizia non molla questo Aububakar Soumaoro, il deputato con gli stivali in prestito, quello che voleva far vedere che lui era un ex brecciante, ma non lo è mai stato, no? E così nella puntata del 25 di gennaio proprio ieri sera, l'inviato Pinuccio torna a occuparsi del sindacalista con gli stivali in prestito. La testimonianza di Antonio Maria Mera, giornalista del quotidiano Avvenire, che nel 2018 aveva scritto sul suo giornale che c'era qualcosa che non andava nell'operato di Soumaoro. E siamo nel 2018, quando lui era già un astro nascente nell'editoria. Eh, ve lo ricordate, no? Veniva messo lui e Salvini. Questo è un uomo e questo no. Ecco, lui che era un astro nascente, questo giornalista diceva che c'era qualcosa che non andava. Dice il giornalista, andavo da anni nei ghetti del Foggiano e ho toccato con il mano alcuni gesti di aggressione per impedire l'accesso ad altre associazioni in nome dell'autogestione. Quindi racconta il giornalista che questo Abou Barak, con dei gesti non proprio gentili, cacciava altre associazioni che volevano operare su quel territorio. E aggiunge il giornalista, due anni e mezzo fa, Abou Barak mi mandò un messaggio in cui c'era scritto che non era vero quello che avevo scritto e che voleva parlarmi per dirmi cosa succedeva davvero a Torretta Antonacci. Dice, io mi resi disponibile, ma a una condizione, per mettere l'accesso al ghetto alle altre associazioni. Dice, non mi rispose più. Non mi rispose più. Il giornalista conferma che poi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, esponenti politici che hanno poi appoggiato la candidatura dell'ex astronascente con gli stivali in prestito Soumaoro, erano stati informati in maniera dettagliata di quello che succedeva in questi ghetti. E al momento della candidatura il giornalista dell'avvenire ha inviato proprio i suoi articoli scritti sul giornale a Nicola Fratoianni e ad Angelo Bonelli, facendogli capire, guardate, che non è tutto oro quello che luccica, guardate che cosa succede da queste parti. La stessa cosa è stata fatta poi da rappresentanti dei sindacati che hanno mandato a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli le stesse raccomandazioni. Attenzione, perché se candidate questa persona è un autogol. Infatti, è stato un autogol. Terrificante. Perché questi due politici, Nicola e Angelo, hanno fatto finta di niente? Ho sentito dire che c'era un accordo tra il PD, dice il giornalista, e i due partiti più piccoli, Europa Verde e Sinistra Italiana, che si basava, tra le altre cose, sulla candidatura di Abu Bakr, anche perché lui veniva da una presenza mediatica molto forte. La realtà è che questo ex sindacalista coi finti stivali era la figura perfetta da contrapporre al cattivo barbuto Salvini, era quello da contrapporre il buono, l'eroe, il lavoratore dei campi, che non ha mai lavorato, e il cattivo leghista di Varese, che è fatto come sappiamo. E quindi, pertanto, sono passati sopra a tutto. Questo Bonelli e Fratoianni non hanno voluto sentir niente perché loro avevano messo sulla bilancia questo Abu Bakr e secondo loro gli avrebbe portato più cose positive che negative perché proprio lui era l'anti Salvini, quel Salvini che tornava al governo e lì c'era l'anti Salvini da fare tutti i giorni notizie sui giornali. Salvini dice, Abu Bakr risponde, volevano farlo diventare l'idolo delle masse di sinistra. E poi, infine, dice il giornalista, sulla raccolta fondi per i regali di Natale destinati ai bambini nei ghetti, il giornalista dice, è un'evidente falsità. Io vado nei ghetti da 15 anni e posso affermare che i bambini non ci sono. Solitamente lì vivono solo giovani maschi e basta. Poi non c'è neanche un'immagine in cui si vede la consegna dei doni a questi bambini che non esistono in questi ghetti. E un personaggio mediatico, come Soumaoro, non avrebbe mai perso un'occasione del genere di farsi vedere mentre consegna i doni ai bambini. Avrebbe fatto su video selfie da propagandare sui social, perché lui è un personaggio che si è costruito mediaticamente sui social. E pertanto il punto è questo, se ci fossero stati veramente dei bambini a cui dare i doni, lui avrebbe fatto mille video da mettere sui social. Quindi non c'è stata nessuna consegna di doni ai bambini. E il giornalista fa capire, e dove sono tutti questi soldi raccolti? Che fine hanno fatto? Sono andati sul conto personale di Abu Bakr, l'ex sindacalista con i finti stivali, e questi soldi non si è saputo più niente, perché sono andati direttamente sul suo conto personale. Ecco, questo è il punto. Dove sono gli sordi? Ma, come vi ho detto tante volte, se a voi mandano dei soldi sul conto personale e domani li prelevate col banco, Matt, già, ma sono tanti, e li prelevi ogni giorno, quanto è il massimo giornalista? 500 euro? Prelevi 500 euro, domani 500, in un mese hai prelevato 15.000 euro, in dieci mesi hai prelevato 150.000 euro, in dodici mesi ne hai prelevati 180.000, a 500 euro al giorno, oppure, senza andare al banco ma tutti i giorni, vai allo sportello e dici, sono qua per prelevare 6.000 euro, ce li ha? Sì, ce li ho qua nel cassetto, di più non ne ho, però no, vanno bene 6.000, torno domani. E dice, cosa ne hai fatto? e dopo che li hai prelevati, li hai usati per fare la spesa, li hai usati per pagare le bollette, li hai usati per fare la benzina, li hai usati. Dopo che tu hai ricevuto dei soldi sul conto e li hai prelevati, è finita, è finita, non è che puoi tracciare più niente, adesso non sto dicendo di lui, però a chi si chiede dove finiscono i soldi che vanno sul conto corrente, è chiaro, o sono sul conto corrente o sono prelevati, io li posso prelevare e mandarli a tizio con un moneygram, sapete quegli invii che si fanno tra uno stato e l'altro, tra persone che vivono... Tu dopo che li hai prelevati, li invii, e chi si è visto? Si è visto. Ma quello che è di sicuro è che questi bambini, che non esistono in questi ghetti, non hanno mai ricevuto nessun dono di Natale da Aboubacar, vestito da Babbo Natale. Arrivederci e grazie.